Allora, abbiamo preso un esercizio, l'abbiamo trovato su internet, per far vedere che l'icotesi nel teorema di Tonelli è essenziale. Allora, prendiamo questa funzione qua di due variate e la andiamo a integrare tra 1 e infinito in dx e tra 0 e 1 in dx. Questa è un'altra notazione che si usa spesso quando si vuole sottolineare che bisogna fare prima l'integrale in dx e poi l'integrale in dy. Invece di metterlo esternamente o mettere le parentesi, metto dy prima dell'integrale in dx in modo tale da non potermi sbagliare sull'ordine di integrazione. L'insieme di integrazione, se lo vado a disegnare, è una striscia. La x varia tra 1 e infinito e la y varia tra 0 e 1. Quindi, se faccio prima l'integrale in dx, qua mi viene la primitiva del meno e alla meno xy su y e questa la devo valutare tra 1 e infinito. Poi quest'altra primitiva è meno, che con il meno davanti diventa più, è alla meno 2xy fratto 2y. 2 e 2 si semplifica. Anche questa la devo valutare tra 1 e infinito. quando y uguale a x uguale a 0, allora qua per y che va a più infinito, questa quantità è sicuramente nulla, perché x è positivo. Qualora anche x fosse 0, comunque questa quantità è nulla perché c'è y anche al denominatore. Quindi, in ogni caso, le due funzioni valutate e più infinito sono entrambi nulla. Invece valutate in 1, questa vale, questa vale, e allora mi viene meno e alla meno y fratto, perché è la x che devo valutare in 1, fratto y, col meno davanti diventa più, e poi mi viene meno e alla meno 2y fratto y in dy. Ora, questo integrale è qua, ma non lo so valutare, però so che è così, cioè non lo so valutare esplicitamente data la funzione integranda, perché è venuta una funzione integranda che non, diciamo qui, l'integrale non posso esplicitare per mezzo di funzione elementare, però quello che so è che questa funzione qua, siccome siamo tra 0 e 1, è più grande di questa. Allora, se questo è più grande di questa, l'integrale è così. Se lo faccio nell'altro verso, diciamo nell'altro ordine di integrazione, qua mi viene, vabbè, le funzioni integrandi vengono simili scambiando la x con la y, quindi al denominatore qua viene x e 2x, e se 2 e 2 si semplifica come prima, e quindi però stavolta mi viene che la parte valutata in 0 mi viene più 1 su x e meno 1 su x e se ne va. La parte valutata in 1 mi viene stavolta col segno opposto, mi viene meno e alla meno x su x, cioè la stessa funzione di qua però scambiando x e y, ma col segno opposto. Qui invece mi viene più e alla meno 2x su x e stiamo tra 1 e più infinito. Quindi stavolta che mi succede? Che e alla meno 2x è più più piccolo, no? Per esempio, se metto x uguale a, però un attimo che non mi trovo qua, quello è 1 fratto e alla y, 1 fratto e alla y è 4, quindi questo è più grande e alla x, e alla xm, siccome diciamo, quello che cambia sono i segni, che questo sia più grande di questo, anche questo è più grande di questo in modo assoluto, però c'è il meno davanti, quindi adesso i segni sono scambiati e quindi ottengo un integrale meno 0. Quindi diciamo, questo che cosa ci dice? Ci dice che se andavamo a fare l'integrale delle due funzioni separatamente, i due integrali dovevano per forza venire infiniti. Infatti, se voi qua cancellate una di queste due funzioni, integrate tra 0 e 1, questo lo posso maggiorare tra due costanti e questo è l'integrale di 1 su y che diverge. Quindi qua vedete che questo integrale fa più infinito e questo integrale fa meno infinito. Similmente, tra 1 e infinito, se non facciamo la, questi due integrali convergono, ma l'integrale di quello che abbiamo cancellato, 1 su x di qua e meno 1 su x di là, divergono e quindi effettivamente entrambi, le due funzioni andando a integrare diciamo, separatamente, ovviamente il terreno di Fubini deve valere, no? L'integrale iterato di solo questa funzione deve essere uguale in tutti e due i casi. Questa è una funzione positiva, la prima, e quindi infatti fa più infinito. L'integrale all'altra funzione che è negativa fa meno infinito. Mentre invece se andate a integrare la differenza delle due funzioni, vi trovate un numero che, vabbè, diciamo l'esempio non è bellissimo perché non riusciamo a scrivere esplicitamente il numero, ma il numero ci sta. Questo integrale è finito, è positivo, questo integrale è finito, è negativo e i due numeri integrati sono diversi. Ok. Va bene. Allora, detto questo, ci rimane un solo risultato che però non ne parliamo oggi, caso mai lo usiamo lo stesso, anche se dovesse capitare agli esercizi, che è il cambiamento di variabili integrali multipli. E perché voglio avere il tempo per fare un po' di esercizi e quindi, diciamo, il cambiamento di variabili integrali multipli, quindi ne parliamo venerdì. Allora, cominciamo a riscrivere la nostra formula di riduzione per gli insiemi normali. la riscrivo, perché voglio, questa deve essere chiara, perché questa è, diciamo, la formula di riduzione più importante di tutte. Quindi, diciamo che stavolta, io ho il mio insieme T, allora X è un uguale a x1, xn in questo caso. Quindi faccio la figura bidimensionale, però stavolta l'insieme sta in Rn più 1. T è contenuto in Rn più 1. Allora ho una funzione F definita su T a valori in R. Allora, misurabile, supponiamo che sia definita su tutto Rn per nn più 1, per... e io voglio andare a calcolare, integrale steso T di F di x, y, quindi d x, y, integrale, diciamo, nella misura prodotto. Ora, fate attenzione che qua indico ancora y e x, però questo è un blocco di variabili, questa è una variabile singola. Quindi è una situazione intermedia tra il caso unidimensionale e il caso in cui precedentemente avevamo due blocchi di variabili distinti. Io so che questo, allora T, so che è un insieme normale rispetto alle variabili X, cioè è un insieme delle x, y, tali che x appartiene a un certo insieme E. Questo E deve essere misurabile in Rn. E f di x è compreso tra alfa di x e beta di x. Ora, molto spesso il nostro T sarà un insieme, per esempio, compatto e questo insieme sarà un insieme tranquillo, insomma, diciamo, T sarà un dominio e anche E sarà un dominio. Un dominio è la chiusura di una persona. Allora, alfa e beta saranno delle funzioni che spesso, per esempio, saranno, per esempio, C0, almeno C0 qui, o di più. Anche qualora alfa e beta fossero discontinue, grossi problemi non ci stanno. Quello che ci sta è che diciamo F deve essere F per la funzione caratteristica di T deve essere misurabile. Questo è tutto. Però, diciamo che in molti casi noi avremo una situazione del genere. Se avremo bisogno di ipotesi meno forti, quando sarà il caso, lo sottolineeremo. Allora, questo integrale qua come si può fare? Questo integrale qua si può fare facendo l'integrale esteso a E. E lo possiamo anche vedere come la proiezione sul piano x, y di T. Quindi io proietto chi è questo qui? E' insieme degli x appartenenti a R a N tali che esiste y appartenenti a R tali che x e y sia appartenenti a R Allora, questo integrale la posso fare come integrale su E dell'integrale tra alfa di x e beta di x di f di xy in dy e poi o mettete io preferisco mettere parentesi più e più di x o sennò potete mettere x qua fuori come abbiamo visto prima o questo risultato è dato dal fatto che la sezione T a livello x non è altro che l'intervallo alfa di x beta di x quindi è un caso particolare del risultato precedente naturalmente se diciamo non è che io per applicare questa formula di riduzione una formula di riduzione anaboga non la posso scrivere quando y non sia veramente un blocco di variabili ma se y è un blocco di variabili qua l'integrale non lo posso fare unidimensionale ma lo devo fare sulla sezione x cambia leggermente la formula ma quella l'abbiamo sostanzialmente già scritta l'avevamo scritta per gli insiemi misurabili e il teorema di Fubini l'avevamo scritta per le funzioni su tutto RN l'unica cosa era scriverla per un insieme per un integrale di una funzione su un insieme generico la differenza è poca mi interessa di più questo caso particolare perché diciamo quando tu effettivamente vuoi calcolare l'integrale l'integrale triplo devi andare a fare il calcolo e il calcolo devi andare a fare integrando l'uno all'altro tranne alcuni casi in alcuni casi possiamo ridurre diciamo possiamo effettivamente applicare una forma di riduzione simile però riducendo più di una coordinata alla volta ok comunque questa è diciamo di base la formula principale con la quale noi andiamo a fare gli integrati facciamo degli esempi esempi banali questo cerchiamo di non cancellare allo andiamo a fare per esempio andiamo a calcolare il volume della sfera tridimensionale allora b è uguale all'insieme degli x y z tali che x quadro più y quadro più z quadro è meno uguale di usiamo questa formula che abbiamo detto poi vedremo altri modi di calcolare lo stesso integrato allora io ho la sfera tridimensionale allora come posso fare questo integrato questo integrato lo posso scrivere questa misura che è è l'integrale sul cerchio di centro di origine raggio r qua d era d 0 r per quale motivo perché la proiezione di questa sfera centrale nell'origine è il cerchio di raggio r dell'integrale adesso devo fare la sezione che cosa devo fare z tra dove varia varia tra meno la radice di r quadro meno x quadro meno y quadro e più la stessa radice r quadro meno x quadro meno x quadro qua devo fare l'integrale in d z e poi devo fare l'integrale in d x d x naturalmente la funzione dell'integrale essendo una misura è la funzione di z quindi mi viene l'integrale esteso al cerchio di centro dell'origine di raggio r di due volte la radice di r quadro meno x quadro meno y quadro l'integrale in base steps ora questo integrale mi conviene farlo in due dimensioni mi conviene passare in due lineate polari questo l'abbiamo già detto una volta nel senso che poi vedremo perché a certo punto devo mettere rho o lano ma comunque questo diventa due volte il cerchio le coordinate polari sono date dalla relazione x uguale rho cos theta e y uguale rho sin theta allora il cerchio di centro d'origine di raggio 1 in due dimensioni x y praticamente mi dice corrisponde all'insieme in cui rho è compreso tra 0 e 1 e tera è compreso tra 0 e 2 pi greco quindi poi viene l'integrale tra 0 e 1 in del rho dell'integrale tra 0 e 2 pi greco in le theta poi qua mi viene la radice di r quadro meno rho al quadrato e poi qua ci va il 2 già ce l'ho messo ci va lo rho che era lo avevamo giustificato abbastanza empiricamente facendo vedere una certa figurina vedremo il determinante lo rilardiamo per cambiare il tricolziano allora qui mi viene il versore la lezione di cui varia la theta e il tera che terminava portando un fatto di insieme esattamente la descrizione dell'insieme siccome qua noi abbiamo il cerchio per spazzare il cerchio questo raggio qui deve fare un giro completo e quindi il tera deve essere complesso tra 0 e 2 pi greco se fosse stato un settore circolare diciamo magari il tera poteva variare tra 0 e 2 pi greco 4 oppure tra se era questo qua in figura allora era tra 0 e pi greco 4 pi greco terzo quello che è ok pi greco o meno pi greco 4 quindi qua mi viene due cose allora questa funzione non dipende da theta quindi posso integrare in me theta quindi qua mi viene 4 pi greco per l'integrale tra 0 e 1 di rho anzi lasciamo 2 pi greco qua e lasciamo 2 rho qua per la radice di r4 meno rho 4 in r e tera allora questo quanto fa? allora qui una primitiva di questo è 2 pi greco lo lasciamo davanti poi abbiamo r quadro meno rho quadro alla tre mezzi per due terzi e poi abbiamo meno e poi dobbiamo annotare il tutto tra scusate qua non era 0 e 1 era tra 0 ed r ovviamente cerchi che era di laggio r e quindi qua r è 0 e 0 allora quando ci metto r uguale a r questo viene 0 quando ci metto r uguale a 0 qua viene r quadro alla tre mezzi viene r cubo col meno davanti fa 4 terzi di greco r cubo quindi in questo modo abbiamo determinato il volume della sfera di centro l'origine e di laggio e questo è un modo un altro modo poteva essere quest'altro ok adesso per vedermiare quest'altro modo applichiamo sostanzialmente la stessa formula di riduzione ma in modo un po' diverso quindi stavolta tiriamo via due coordinate in un colpo solo cioè allora io avevo la mia sfera era centrata nell'origine e diciamo che allora qua la descrizione mi conviene farla sull'asse y diciamo fissiamo un y e andiamo a fare per questo y la sezione della sfera ok allora io che cosa devo fare devo fare l'integrale tra meno 1 e 1 in dy dell'integrale sulla sezione a livello y della sfera in dx dz della funzione u questa è sempre la formula di riduzione che mi dice quella generale non quella che ho scritto all'inizio di quest'ora ma in questo caso quindi integrare tra meno 1 e 1 della misura due dimensionale della sfera di centro l'origine e raggio r sezionata a livello y e poi devo integrare quindi mi interessa sapere quando io seziono a livello y se volete se la scrivete così è esattamente la formula dell'ora precedente applicata agli insieme allora se la scrivete così a me interessa sapere qual è l'area di questo cerchio ma se io y ce l'ho come parametro fissato io so che l'equazione so che x quadro più y quadro più z quadro è minore o uguale di r quadro che posso anche scrivere come x quadro più z quadro minore o uguale di r quadro meno y quadro quindi questo che è l'equazione della sezione la disequazione che mi definisce la sezione di b0 l a livello y questo qui che cos'è è un cerchio di centro origine e di raggio radice di r quadro meno y quadro ma perché x e z sono le variabili x quadro più y quadro meno uguale di è un cerchio centrato nell'origine il raggio al quadrato è questo e quindi questo è il raggio ma qual è la misura del cerchio bidimensionale è pi greco per il raggio al quadrato quindi non devo fare altro che questo integrale cioè poiché la funzione è pari devo fare 2 pi greco per l'integrale tra 0 e 1 meno di r quadro meno y quadro in y quindi devo fare 2 pi greco tra 0 ed r qua era ovviamente come al solito non era meno 1 o 1 ma era meno r quindi l'integrale tra 0 ed r 2 pi greco l'integrale di r quadro da 0 e r fa r cubo poi devo fare 2 pi greco facciamo tutti i passaggi r quadro y meno da un cubo terzi valutato tra 0 ed r quindi viene 2 pi greco r cubo meno r cubo terzi e viene un'altra volta 2 terzi r cubo per 2 pi greco viene 4 terzi pi greco ok? quindi come vedete io posso ho diversi modi per procedere ho diversi modi per procedere questo secondo modo è piuttosto interessante se noi dobbiamo andare a calcolare la il volume di un solito di rotazione e qua modi adesso facciamo lo stesso esercizio per un solito di rotazione di un solito di un solito di un solito Grazie. Allora supponiamo di avere, qui ho un insieme di t, T stavolta è normale rispetto all'asse z, quindi posso scrivere che t è uguale all'insieme delle xz, tali che z è compreso tra a e b, e x è compreso tra due funzioni che chiamo f di z e g di z. Facciamo questo caso qua. Ok? Adesso io faccio ruotare il tutto attorno all'asse z. Allora come devo fare? Devo cercare di insegnare la figura simmetrica da questa parte, e poi faccio ruotare. Allora quando ruoto ottengo un ciambellone. La sezione di questo ciambellone, se io seziono, naturalmente qui ho aggiunto una ordinata che è la ordinata y, ma conviene scrivere x qua e x qua per mantenere la ternale oggila, però sostanzialmente questo è quello che ottengo. Se io seziono su un piano che passa per l'asse z, il ciambellone ottengo due pettine fatte così, bidimensionali. Ma se seziono parallelamente al piano x, y, cosa ottengo? Allora, cosa ottengo? Per esempio, guardate la sezione superiore. Se seziono a questo livello qua, ottengo una colonna circolare. Quindi quando io seziono t, adesso quindi v, si ottiene dalla rotazione di t attorno a z. Quindi si introduce, facendo ruotare, la nuova coordinata y. Adesso la sezione di v al livello z è uguale all'insieme delle x, y, tali che x quadro più y quadro è compreso tra f quadro di z e g quadro di z. Oh, questa naturalmente era maggiore o uguale a z. Questo, naturalmente, sez è compreso tra a e b. Altrimenti, è 2. Sez non appartiene alla b. Ok? Ma quindi, come si fa la misura tridimensionale di v? Posso applicare il teorema di Fulbino e posso dire che questo è l'integrale tra a e b in d z della misura due dimensionale di v sezionato a livello z. Ma questo è l'integrale tra a e b in d z. La misura di una corona circolare è la differenza delle aree del tuo cerchio. Ma l'area del cerchio che avevamo calcolato era pi greco per il raggio al quadrato, quindi questa mi viene pi greco per G quadro di z meno F quadro di z. E quindi, in questo caso, se l'insieme era descritto tra le x comprese F di z e G di z, quando fate ruotare attorno all'asse z, la rotazione completa è di 360 gradi, ottenete un soldo la cui misura, diciamo, il volume è dato da questo semplice integrale unidimensionale. In questo caso ci siamo ricondotti direttamente un integrale unidimensionale, quindi abbiamo bypassato il fatto di fare gli integrali uno alla volta, che sono tre. Diciamo che sono due in ogni caso, perché il primo è banale essendo una misura. Bisogna soltanto valutare la lunghezza della sezione. Però, diciamo, in questo caso facendo direttamente una sezione a livello x, quindi una sezione bidimensionale, e sapendo che è una corona circolare, quindi di cui sappiamo calcolare l'area, abbiamo potuto ottenere questa formula qui, che ci dice che vale per il punto di risolto. Diciamo che un'altra possibilità per calcolare il volume dei soldi di rotazione, è data da un teorema che si chiama teorema di Burdino. Per parlare del teorema di Burdino, io devo definire prima che cos'è il baricentro di una figura in RM. Allora. Allora. io ho una figura in un certo spazio N dimensionale. N può essere uno, due, tre, più di tre. Ho questa figura qua. Quindi è una figura solida, eh? Faccio la figura in maniera tale che ci sembri un solido. Questo qui lo chiamo V, per ricordare appunto che è un solido e quindi ha un volume, in questo caso. Quindi, ma diciamo, più in generale, questo lo chiamo x con uno, questo lo chiamo x con due, poi qui ho altre coordinate, poi l'ultima coordinata la chiamo x con M. Quindi facciamo direttamente il caso generale. Ovviamente non le posso disegnare più di tre coordinate in R3, però, diciamo, immaginate come se ci fosse. Allora, chi ha il baricentro è un punto, il baricentro G, il baricentro di V, è un punto di coordinate x, 1, g, mettiamoli sempre verticali, x, n, g, x. Come è definita la coordinata x, iesima del baricentro? Questa è definita come la media, cioè l'integrale esteso a V, di x con i in dx, fratto l'integrale di 1 su V, cioè la misura n dimensionale di V. Ok? Questo è il baricentro. Allora, cosa dice il crema di Goldin? Quindi, questo si può fare per un solito, per una figura piana, per una figura unidimensionale, in qualunque dimensione. il crema di Goldin. Allora, prendiamo una figura, la chiamiamo T, contenuta dall'insieme delle x e z, tali che x è positivo. E quale motivo vogliamo farlo? quindi, poi andiamo a prendere x, g, scusate, g il baricentro di t. Vi ricordo che ci stavolta ha due coordinate. Quindi, t, g, e, x, u, x, g, z, g. Quindi, per esempio, vedremo che il baricentro più o meno di... potrebbe stare anche più in croce da queste parti. Ok? Allora, adesso facciamo ruotare attorno all'asse z, la figura. Però, la ruotazione può anche non essere completa. Se la ruotazione forma un angolo alfa, un angolo dietro alfa, dovete immaginare due piani che passano per z. Questi si aprono al libretto. Se avete fatto ruotare il piano diciamo x, z, attorno all'asse z, di un angolo alfa, allora, diciamo sia ora v il solito ottenuto 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 da una rotazione attorno all'asse z di un angolo irradiante. ovviamente. Ovviamente, eh. Allora, m3 di v è uguale a m2 di t per 2 pi greco, i, scusate, per alfa e x, g. Ok? Allora, questa che cos'è? x, g, se ci fate caso, è esattamente la distanza del baricentro, la prima coordinata del baricentro, se vado a finire, per esempio qua, questa è la lunghezza, questa è, questa è l'area della figura che ruota, aria che ruota. Questa invece è la lunghezza che forza dal baricentro. ok? Allora, vediamo un po'. Poi questo teorema lo giustifichiamo, lo dimostriamo. Non lo voglio fare, adesso voglio fare riuscire. Per esempio, se io ho un cilindro, cominciamo con dei casi semifrici. di questo, vediamo un po' di questo, vediamo un po' di questo. il baricentro diciamo se una figura ha un asse di simmetria il baricentro deve stare su quell'asse quindi se io voglio ottenere un cilindro devo far ruotare un rettangolo allora diciamo che questo rettangolo è 0R e 0H ok? allora questa figura c'è un sacco di asse di simmetria ma scusate ma varie asse di simmetria comunque il baricentro sta a R- H- questo possiamo anche calcolarlo direttamente per esempio se vogliamo calcolare diciamo direttamente la coordinata X e poi ce ne calcoliamo una l'altra è banale è chiaro si fa lo stesso modo dobbiamo dividere per HR che è la misura due dimensionale della figura e dobbiamo fare l'integrale tra 0 e R in DX dell'integrale tra 0 e H in DZ di che cosa? di X ricordate se voglio calcolare la coordinata X devo integrare la funzione X ma adesso l'integrale di X in DX tra 0 e R è R 4 mezzi questa funzione integrata non dipende da Z quindi qua ho H per R 4 mezzi fratto HR e mi viene R mezzi questa è ripeto X G similmente se integro la Z mi verrà H mezzi perché stavolta è 0 e 4 mezzi che mi fa H 4 mezzi e quindi mi verrà H mezzi ora quando io faccio ruotare attorno all'asse Z ottengo questo cilindro allora il cilindro io dico che è uguale il volume del cilindro ad HR che è l'area della figura che ruota per 2π per R mezzi 2 e 2 si semplifichi e poi viene pi greco R quadro per A e la stessa cosa diciamo la cosa funziona perché diciamo il volume del cilindro è dato dall'area di base per l'altezza l'area di base è un cerchio pi greco diciamo applicando la formula di riduzione diciamo io sezione rispetto all'asse Z ottengo H costantemente come misura devo integrare H sul cerchio di raggio R cerchio di raggio R abbiamo già dimostrato che c'è area pi greco e r quadro e quindi misura andiamo a fare con diciamo difficoltà crescente andiamo a fare con il triangolo quindi stavolta abbiamo R e qua abbiamo H se vogliamo calcolare applicare il problema di Cugino in realtà diciamo non ci interessa non ci interessano tutte e due le coordinate cioè la coordinata X e la coordinata Z del paricentro ma ci interessa solo la X per quale motivo a me se il paricentro sta più in alto o più in basso non mi interessa mi interessa la distanza del paricentro dalla rezza di rotazione dall'asse di rotazione che è quella che mi serve per calcolare la lunghezza che percorre il paricentro nella rotazione quindi io che cosa devo fare adesso devo fare XG stavolta è l'integrale diciamo in facciamo prima l'integrale in DZ se lo devo fare in DZ lo devo fare tra 0 e che cosa qua devo metterci H meno R su H per X perché quando X è uguale meno H su R per X perché quando X è uguale a 0 poi viene tra 0 ed H e ci troviamo quando X è uguale a R mi viene tra 0 e 0 e ci troviamo e questa qui è un segmento diciamo un'equazione lineare in X e in effetti questo profilo è lineare in X e poi devo fare l'integrale tra 0 ed R in DZ quindi qua mi viene l'integrale in DZ non mi dà altro che la X non dipende da 0 la porto fuori qua mi viene H che metto in evidenza per 1 meno meno X su R in DZ quindi qua mi viene H l'integrale di X fa X quadro mezzi l'integrale di X quadro fa X cubo terzi sì uguale questo lo devo valutare tra 0 ed R e quindi mi viene R viene H allora X quadro e X cubo su R fanno entrambi R quadro quindi viene H R quadro poi mi rimane un mezzo meno un terzo che fa come stesso questo è la coordinata X del baricentro quindi stavolta il volume del solito di rotazione si ottiene facendo moltiplicando il volume diciamo l'area della figura che ruota che stavolta però non è H per R ma è H per R mezzi perché quello che ruota è il triangolo per 2P greco per allora la coordinata X del baricentro va bene togliamo questo e moltiplichiamo direttamente per HR quadro sesto e quindi viene di greco HR quadro terzi perché perché adesso questa non era la coordinata X del baricentro questa era questo lo chiamo T era la coordinata X moltiplicata per l'area di T ma adesso io che devo fare l'area allora per ottenere la coordinata X devo dividere per l'area di T per ottenere il volume del solito di relazione devo rimoltiplicare per l'area di T non faccio né l'uno né l'altro perché poi si semplificano e quindi prendo direttamente questa quantità e la moltiplico per 2P greco che è una rotazione se voglio fare una rotazione completa se non volete fare una rotazione completa volete ottenere per esempio fate rotare di soli 180 gradi invece di ottenere un cono ottenete mezzo cono e quindi il volume sarà la metà ok tra l'altro in questo modo cioè abbiamo ottenuto almeno in un caso particolare se andiamo a considerare la coordinata vera Xg Xg dividendo per h r mezzi viene r terzi cioè il baricentro sta a un terzo dell'altezza e un terzo sta qua in realtà perché sta qua perché il baricentro sta a un terzo dell'altezza il baricentro il punto di incontro delle mediane è il caso del triangolo e quindi qua questa qua è l'altezza questo è un triangolo rettangolo quindi questa è l'altezza relativamente a questa quindi sta un terzo dell'altezza la coordinata X deve stare deve essere r terzi questo si potrebbe sapere già dalla gioventina ma diciamo ce lo siamo parco andiamo a fare un altro esercizio prima di fare 5 minuti in pausa andiamo a vedere di nuovo per il volume della sfera per ottenere una sfera di raggio r io non devo far girare un centro ma devo far girare mezzo dire ok allora il il baricentro di questo mezzo centro per ovvi motivi sta su l'asse X però sta a una certa altezza sull'asse X quindi quello che mi interessa è al solito la coordinata X e G allora adesso diciamo io so il volume della sfera abbiamo calcolato prima quindi so che il volume della sfera c'è 4 terzi Y passiamo a R R è uguale all'area del semicerchio cioè pi greco r quadro mezzi per 2 pi greco XG G lo mettiamo in alto quindi un pi greco lo tolgo un r quadro lo tolgo quindi ottengo che XG è uguale a 2 e 2 lo tolgo quindi è uguale a 4 su 3 pi greco R che è un calcolo non banale della coordinata X di questo patricetto allora vogliamo vedere che funziona io cosa devo fare devo fare l'integrale sul semice quindi cerchio 0R intersegato X maggiore o uguale di 0 di che cosa? di X in dx del 0 allora passiamo in coordinate polari e questo mi viene l'integrale tra 0 ed R nell'integrale tra 0 e 2 e pi greco di Rho cos theta che è la X poi questo qua lo dovrò dividere per l'area del semicello questo è il numeratore che mi da in del Rho del Rho allora che mi viene? stavolta mi viene allora questa integrale si fattorizza Rho del Rho li posso portare di qua allora come vedete tra 0 non stavolta non tra 0 e tra meno chi greco e chi greco ecco questo è un caso in cui appunto vedete theta per spazzare il semicerchio stavolta non devo questo semicerchio theta qua vale 0 qua vale meno pi greco e qua vale pi greco quindi scusate non per meno pi greco e pi greco ok quindi l'integrale di Rho tra 0 e R fa R quadro e mezzo mentre quest'altro integrale fa ovviamente il seno che vale 2 quindi otteniamo R quadro no ho dimenticato lo jacobiano quindi qua viene R cubo terzi quindi qua viene 2 terzi R cubo perché c'era Rho cos theta era la X ma poi c'era il determinante jacobiano che è l'altro Rho quindi Rho quadro cos theta si fattorizza ugualmente c'è Rho quadro del Rho lo mostro di qua cos theta del teta lo lascio di qua quindi perché lo posso portare fuori perché non dipende da te allora quindi fattorizza significa che in questo punto faccio quest'integrale interno quest'integrale del teta e poi faccio il problema integrale di Rho quadro interno fa Rho cubo terzi valutato da 0 R fa R cubo terzi quest'altro integrale fa il seno il seno in pi greco vale 1 in pi greco mezzo vale meno 1 1 meno meno 1 fa 2 adesso xg chi è? xg è 2 terzi R cubo fratto pi greco R4 mezzi cioè 4 su 3 pi greco R e quindi la combinata x del baricentino è la stessa di me naturalmente fatto diciamo applicato il terreno di Pundino al contrario noi abbiamo diciamo possiamo in certi casi calcolare il baricentro di alcune figure in maniera più rapida ok per esempio un ultimo esempio facciamo una tirata quindi arriviamo fino a un giorno meno 5 visto che fare la pausa a questo punto è inutile facciamo ancora questo esempio e poi un altro esercizio che ci vengo a fare allora prendiamo per esempio in un trapezio questo quando gira mi determina un tronco di gono questo è x questo è z allora questo lo chiamiamo l lato piccolo questa differenza la chiamiamo d e l'altezza la chiamiamo quindi abbiamo il lato maggiore l trapezio questo è l questa è l più d e l'altezza a adesso possiamo sia la diciamo qua abbiamo il rettangolo R e poi abbiamo il triangolo T il triangolo allora chiamiamolo T il trapezio lo chiamiamo TP allora noi per determinare il volume della figura di rotazione possiamo applicare il teorema di continuo direttamente facciamo così come facciamo il volume di rotazione è dato dalla rotazione di R che è dal cilindro più la rotazione di T che è quella che dà l'altro allora qual è xG di R questa è ovvia quanto vale la coordinata x del baricentro di R l'è mezza l'è mezza perché nel rettangolo per simetria il baricentro sta al centro quindi la metà di L è l'è mezza e quanto vale xG di T l'è mezza l più di terzi cioè in un triangolo abbiamo visto che se il triangolo è messo così la coordinata x è un terzo della base e però poi ci bisogna aggiungere la distanza da Z la coordinata di terzi è la distanza da questa retta verticale che però ha coordinata x uguale a D quindi bisogna aggiungere D quindi bisogna aggiungere L più di terzi quindi il volume del tronco di cono a che cosa è uguale è uguale a due di greco volte per l'area che ruota di R ma l'area che ruota è L H per la coordinata x del baricentro di R che è L mezzi più l'area che ruota di T che è L per D mezzi per L più LH eh scusate D H mezzi H D mezzi per L più di terzi allora questo è area R questa è XG di R questa è area T base per altezza di S2 e questa è XG di T O e quindi vabbè un 2 un H mezzi lo mettiamo in evidenza qua mi viene di greco H che moltiplica L quadro più D per L più ok dici ma io come faccio a sapere se questo è vero e vabbè allora se io continuavo questo questo diventava un po' questo l'unica cosa che mi interessa è questa altezza qua e per sapere questa altezza qua io devo fare una proporzione cioè chiamate questa quantità chiamatela T questo pezzetto qua voi sapete che T su H deve essere uguale a T più H su L più D questo è T questo è H questo è T più H questo è L più D T su L e questo è T questo non è H ma L anche questo di qua T più H diviso L più D quindi T è uguale a T che moltiplica L fratto L più D più HL fratto L più D portando appena membro qua mi viene T per D fratto L più D uguale HL fratto L più D ok quindi d'acqua viene T uguale H per L fratto D vediamo 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 un po' se è giusto HL quindi viene T su L viene H su D vediamo vediamo un po' T più H viene e no perché questo non è di c'è qualcosa che perché quando ho fatto questa differenza I meno T L fratto L più D no questo è uguale T D fratto L è uguale H per L su D L più D per H su su D allora questo viene L H più H mi sembra di aver fatto bene però non sono figura se ci sono degli errori mi sono picciato tanto si vedrà adesso se andiamo a allora se T è giusto io che cosa devo fare devo fare il volume del cono grande meno il volume del cono piccolo cioè pi greco per L più D al quadrato per H T più T quindi per 1 più L su D questo è il volume del cono grande meno il volume del cono piccolo il volume del cono piccolo è L quadro pi greco L quadro terzi qua per T cioè L A su D terzi vabbè adesso qua viene pi greco terzi per e ora si bisogna fare il punto per H adesso qua mi viene L H c'è una D che posso mettere in evidenza qua mi viene L più D al cubo meno L quadro L cubo H meno L cubo che H l'avevo già messo in evidenza allora questo è di greco terzi H poi qua mi viene 3 allora L cubo se ne va 3 D quadro più 3 D L più D quadro qua c'era una D A della mia quindi viene di greco H poi mi viene 3 D L quadro 3 L quadro 3 D L quadro poi c'è D quadro L e poi c'è D allora dividendo per D qua viene dividendo per 3 D qua viene L quadro più D L più D quadro D quadro L quadro più D L più D quadro D quadro D questo qua è il volume tronco di cono questa è la terza volta lo facciamo probabilmente mi pare che una volta già l'avevamo calcolato il fatto di farlo in più modi non è pesfizio A è perché così hai più modo di fare la stessa cosa che se hai tempo è un modo per anche controllare se però non hai tempo ma un modo è te lo ricordi meglio è più facile degli altri puoi fare in quel modo e tratturare gli altri adesso un altro esercizio che vogliamo fare prima di andarci è il calcolo del vabbè noi in ultima ce la facciamo acceleriamo un po' voglio fare il calcolo del volume della sfera n dimensionale allora io sto in Rn io ho x1 quadro più x2 quadro più xn quadro minore uguale di R quadro allora io diciamo blocco tutte le coordinate meno 2 e taglio in questo caso blocco una sola coordinata perché le coordinate sono 3 e come ho fatto nel caso della sfera vera e propria però in generale blocco tutte le coordinate meno 2 per esempio blocco le prime n meno 1 quindi cosa mi rimane mi rimane xn meno 1 quadro più xn quadro minore uguale di R quadro meno x1 quadro più xn meno 2 uguale allora io cosa posso dire che il volume la misura n dimensionale della B0R n dimensionale è uguale è uguale a che cosa beh qui la sezione questa qua che cos'è è un cerchio di questo raggio anzi mi conviene fare il contrario mi conviene scrivere questo minore uguale di R quadro meno allora questa che cos'è è una sfera n meno 2 dimensionale di raggio la radice di questa ok allora punto numero 1 per induzione si prova facilmente che il volume della sfera è proporzionale al raggio elevato alla n quindi questo che cos'è il volume di questa sfera se io ho la sfera n meno 2 dimensionale di centro l'origine e di raggio la radice di la radice di R quadro meno x1 quadro meno x2 quadro questo che cos'è è il volume della sfera n meno 2 dimensionale di raggio 1 per R2 R quadro meno x1 quadro meno x2 quadro alla n meno 2 mezzi perché era alla 1 mezzo elevato alla n meno 2 quindi questo qua che cosa sarà? sarà il volume della della meno 2 di B n meno allora questo qua intanto è uguale anche a R alla n per la misura n dimensionale di B n 0 1 dall'altra parte qua mi viene questa qui poi mi rimane da integrare sul cerchio di centro d'origine e di raggio radice di R quadro meno x quadro meno x1 quadro due coordinate invece di chiamarle x1 x2 le chiamo adesso xy di che cosa? di R2 R al quadrato meno x quadro meno y quadro tutto elevato alla n meno di meno 1 in D x di allora quest'ultimo integrale lo facciamo in coordinate polari questo qua mi diventa l'integrale tra 0 e 2 in D d dell'integrale tra 0 e R in D rho di che cosa? di R quadro meno rho quadro elevato alla n mezzi meno 1 per lo cambiamento di ordinario di adesso faccio allora innanzitutto tutto ciò non dipende da te quindi l'integrale in D D lo faccio e mi da 2 t poi faccio la cambiamento di variabile rho quadro uguale t quindi qua mi viene l'integrale tra 0 ed R quadro di R quadro meno t alla n mezzi meno 1 qua mi viene meno perché no niente meno perché t uguale a rho quadro d t uguale a 2 rho di rho quindi d t si mangia sia la rho che quindi questo questo è meno 1 quindi questo chi è? è pi greco per R quadro meno t alla n mezzi col meno davanti però per 2 su n valutato tra 0 ed R quadro quando ci metto R quadro viene 0 quando ci metto 0 viene quindi pi greco per 2 su n per R alla n per R alla n 2 su n allora se ho fatto bene il conto qua mi viene la misura n meno 2 dimensionale di n meno 2 di 0 1 per 2 di greco su n per R alla n adesso R alla n lo potete semplificare e avete ottenuto questa relazione diciamo che la misura n dimensionale per la b 0 n è uguale a 2 di greco su n per b n meno 2 b 0 0 1 viene 0 1 ok per la misura n meno 2 quindi questa relazione vabbè poi la discutiamo la prossima volta però diciamo innanzitutto mi dice che vedremo che mi dirà che la misura della sfera unitaria tende a 0 con la dimensione scusate qua era sempre n grande n grande tutte le n erano tutte n grande e siamo a parlare della dimensione e quindi vediamo intanto se è vera noi l'unico caso in cui la possiamo applicare tra 0 e 2 in 0 sono 2 e quindi in che sono 2 no in 0 no tra 1 e 3 facciamolo tra 1 e 3 così non ci confondiamo tra 1 e diciamo l'intervallo meno 1 1 che ha lunghezza 2 quando passo a 3 devo moltiplicare per 2 terzi 2 per 2 terzi per 4 terzi pi e quindi la sfera tridimensionale effettivamente è 4 terzi pi però se mandiamo n infinito la misura della sfera unitaria n dimensionale tende a 0 con n che è strano perché diciamo sembra strano ma non lo è va beh per oggi basta non lo è Grazie a tutti